Musica Ancora condizioni di forte instabilità sullo Ionio a causa della presenza di un profondo vortice depressionario che tenderà ad attenuarsi e infine a colmarsi nel corso del fine settimana. In Toscana, venerdì 8 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli o moderati da nord-est. Moderati di maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio. Temperature quasi stazionarie o in ulteriore lieve aumento le massime, su valori superiori alle medie, fino a 32-34 gradi. Tempo stabile, scampolo di estate anche sul territorio provinciale. A Lupe e sulla Biana, temperatura minima 17, massima 31 gradi. A Castelnuovo, Garfagnane, zone montane, minima 15, massima 29. A Viareggio e sul litorale, minima 17, massima 29 gradi. Sabato sereno, temperature al di sopra delle medie stagionali.